Ciao a tutti, non preoccupatevi per la mascalina, tra due giorni sarò come nuovo. Il mio invito in questi giorni, abbiamo anche sentito nella cronaca i vari diritti delle persone disabili con grandi problemi, ecco un diritto è quello di avere la ricerca. E per raggiungere quanta più gente possibile la federazione punta a conquistare anche la rete tramite l'hashtag con la ricerca si può. E' un diritto per cui mi batto, dunque vi invito tutti in questo giorno a pensarci e a divulgare la notizia. Se è fondamentale che i ricercatori possano avere la possibilità di proseguire nel loro lavoro di scoperta, indispensabile anche che i malati, i familiari e i donatori siano anche indirizzati nel miglior modo dai medici curanti. E Semi per esempio invita la raccolta fondi per l'International Meeting for l'Aminopatie di Bologna.